Benvenuti amici della The Master of Champions, siamo in Italia nel circuito di Monza 5793 Il tracciato è estremamente tecnico, qui il setup della monoposto è essenziale per affrontare al medio i 4 rettilini da oltre 340 km orari L'abilità del pilota nel ricercare il miglior punto di frenata è decisiva Bene, andiamo a vedere il giro di Kinga Bio 92 su Scuderia Ferrari Grazie a tutti 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 Grazie a tutti